ben tornati ad un nuovo episodio di gong il podcast di round 2 partiamo subito con un po' di notizie in realtà insomma come vi dicevamo anche ieri il mercato non è che offra tanti spunti ma un paio di news che vogliamo commentare e su cui vogliamo darvi la nostra prospettiva ci sono la prima prendiamo come spunto di buona volontà per far vedere il 2023 vuol partire comunque almeno dal punto di vista di gong con delle belle intenzioni esatto la prima riguarda wizards of the cost ovviamente insomma l'azienda che tutti conosciamo per dungeons and dragons che magic e magic certo assolutamente che si era insomma aveva rivendicato l'intenzione nel corso dell'anno del 2022 di buttarsi a capofitto nel mercato videoludico lo aveva fatto fondando un nuovo team che si chiama skeleton key ma anche insomma prendendo accordi con diversi sviluppatori per pubblicare un numero non precisato di produzioni legate alle sue ip e forse anche chissà qualcosa di nuovo ricordiamo sempre che comunque ad agosto arriva baldus gate 3 finalmente con una pubblicazione che sappiamo è arrivata diciamo in progress con l'accesso anticipato però che vedrà appunto ufficialmente poi la luce per la produzione definitiva che è importante in manovarian studios cioè quello è un gioco sicuramente che ha una sua storia e fa un po' però al tempo stesso storia sempre anche quello però era proprio insomma un ribadire questa intenzione certo certo riparto da lì alla grande certo certo baldus gate era un segnale molto forte in realtà è arrivato nel corso della notte un report di jason schreier che ha insomma secondo cui wizard avrebbe discontinuato lo sviluppo di cinque giochi non ancora annunciati in realtà la cosa non è solo una voce di corridoio perché poi wizard ha di fatto confermato ign pubblicando insomma una dichiarazione ufficiale che in effetti c'è stato un po' di riorganizzazione c'è stata una riorganizzazione e che quindi questi insomma i suoi piani sono saranno un po' più trattenuti per il 2023 sì diciamo che l'idea evidentemente che passa il messaggio di fondo è quello di una specie di cambio di rotta per quanto riguarda i videogiochi certo senso che inizialmente loro avevano parlato addirittura di sette otto titoli idealmente come dire in rampa di lancio o perlomeno in preproduzione per meglio dire e quindi il punto è che evidentemente la scelta di un publisher che non è un publisher così diciamo forte dal punto di vista dei videogiochi ma è quello di due colossi veri e propri del mondo del tabletop è quella di fare un pochino marcia indietro cioè una scelta che tra l'altro prevede secondo il report di schreier 15 licenziamenti sì che non sono tantissimi no non sono tantissimi per il mondo dei videogiochi però è chiaramente sempre brutto quando le persone perdono lavoro in generale il punto è che wizard dice di essere sempre impegnata nel mondo del digitale tant'è che anche il fatto di Dungeons and Dragons che ha appunto questa parentesi digitale sì sì D&D Beyond esatto il sito dedicato per crearti le schede personaggio un'idea di comunque portare una dimensione elettronica nel mondo di D&D c'è e rimane sicuramente uno dei cardini diciamo di quella che è la wizard del futuro il punto è che però in generale dicono che abbiamo fatto dei cambi strategici per quello che è il portfolio a lungo termine e quindi stiamo decidendo sostanzialmente come puoi coinvolgere il nostro pubblico in maniere diverse sì io mi sono fatto un'idea di che tipo di dietro front sia quello di wizard andando un po' a vedere anche quali sono i team che wizard aveva contattato e con cui aveva stretto un pochino degli accordi e sono due team che sono molto focalizzati su tipologie di esperienze che magari quando sei un publisher che vuole arrembare il mondo dei videogiochi ti vengono subito in mente però sono tipologie di esperienze che stanno vivendo diciamo alterne fortune il primo team è Hidden Path ed è un team che insomma aveva annunciato proprio a metà del 2022 un accordo con wizard per lavorare su D&D ed è un team che è molto focalizzato sulla realtà virtuale aveva sviluppato proprio Brastatics che è uno dei più famosi brand di giochi strategici per realtà virtuale e Raccoon Lagoon che invece era sempre in realtà virtuale una sorta di live sim ecco secondo me ci sta che un publisher dica voglio entrare anche nel mondo della realtà virtuale guardando allo stato delle cose all'inizio del 2023 ci sta anche che dica ok volevo entrarci forse non è più il caso tra l'altro in realtà da questo punto di vista c'è anche una vicinanza tematica che ci sta benissimo nel senso che ci sono già esperimenti di realtà virtuale legati al mondo tabletop su tutti i Demeo diciamo che poteva essere una transizione molto naturale in un contesto in cui quel what if la realtà virtuale effettivamente prende piede esatto non sta esattamente facendo così e in questo senso è giusta la tua osservazione nel dire ok prima che sia troppo tardi prima di farci troppo male abbandoniamo questo tipo di intenzione anche perché forse magari è solo prematura certo l'altro team invece si chiama Other Side Entertainment è un team che ancora non ha pubblicato niente ma che pubblicherà per esempio una piccola curiosità il nuovo gioco di Warren Spector che è una sorta di live sim immersive sim in un mondo alieno sostanzialmente e hanno annunciato anche Thick as Thieves che è un cooperativo modello Payday in una Edimburgo un po' steampunk anche in questo caso probabilmente si tratta di un team molto focalizzato appunto su esperienze multiplayer e anche in questo caso visto quanto è difficile già stai facendo altri progetti eccetera eccetera forse facciamo che il mio lo mettiamo un attimo così sì fra l'altro sono in entrambi i casi appunto delle collaborazioni che Wizard aveva stretto con dei team già esistenti dei team esterni non sembra invece cambiata l'intenzione per quanto riguarda la creazione dei propri team infatti insomma appunto a luglio era stata annunciata la creazione di Skeleton Key che è questo team di sviluppo che è stato insomma fondato grazie a dei fuori usciti di Bioware credo che appunto ci stia anche fare un passo indietro e focalizzarsi sulle produzioni interne magari meno ma meglio cioè forse ci sta che la leggo un po' così diciamo speculando un filino magari dici voglio provare a entrare un po' a gamba tesa nel mondo dei videogiochi e pensi a aggredire un po' al mercato cercando di sfangarla appunto con o soluzioni alternative in cui mettere il piedino la VR oppure dici magari faccio il gioco multiplayer che fa il botto eccetera eccetera e arrivo subito può starci anzi secondo me è proprio giusto dire aspetto un attimo facciamo le cose con ordine scegliamoci magari il brand giusto utilizziamo anche proprio dei generi che magari si sposano meglio andiamo un pochino più sul sicuro costruiamo e poi piano piano arriviamo anche alle cose sperimentali ha senso è un'opportunità grossa in realtà per tutti perché in realtà ma anche per loro no no sì ma per tutti dico anche per il pubblico certo l'esplosione di Dungeons & Dragons in generale come fenomeno tra l'altro potete anche ascoltare le nostre avventure ruolistiche nell'altro nostro podcast che è Round20 lo trovate sì c'è il link anche in descrizione perfetto in generale cioè c'è l'opportunità di come posso dire pescare piene mani in quel bacino che è una cosa che è già successa nell'ambito videoludico appunto basti pensare a Baldur's Gate bisogna però farlo con attenzione perché sappiamo che poi è facile ascoltarsi e quando succede secondo me a queste grandi aziende che sono esterne al videogioco poi se appena appena qualcosa va male chiudono tutto basta sbaraccano penso a quello che ha fatto Disney bravo esatto e prima che si riavvicinino magari deve passare un decennio sì sì deve cambiare 8 CDA cose del genere e quindi è meglio fare le cose con attenzione senza voler esagerare troppo perché ripeto poi rischia di farsi male in generale un po' il settore mi viene da dire sono d'accordissimo nella seconda parte di questo podcast vogliamo invece commentare una notizia insomma molto molto brevemente perché si tratta veramente di appena un accenno per dei team che abbiamo citato che probabilmente non se la passano benissimo ci sono anche invece degli studi di sviluppo che vedono la luce e il primo a nascere in questo 2023 è Moonhood e lo vogliamo citare perché è uno studio indie che viene fondato da due fuoriusciti da Zoink Games Zoink Games magari non è uno dei nomi diciamo più chiacchierati dell'industria però negli ultimi anni ci ha comunque insomma ha portato sul mercato delle produzioni interessanti si sono distinti all'inizio con Stick It to the Man poi hanno fatto cose cose diverse l'ultimo e forse anche il più celebrato è Lost in Run pubblicato l'anno scorso se non ricordo male sotto etichetta EA Originals esatto ed è comunque anzi due anni fa perché siamo nel 2023 bravo e con tra l'altro secondo me distinguendosi un team di quelli che magari non fanno dei giochi straordinari che però hanno sempre la personalità giusta il giusto anche carattere dal punto di vista estetico dell'estero che comunque un po' ci provano secondo me ci sta mi stupisce il fatto che abbiano deciso di allontanarsi da Zoink che già aveva quel carattere lì e quindi forse di far perdere qualche cosa al team originale cioè non erano certo giganteschi come realtà eppure possono essere comunque dei team che hanno qualcosa da dire tra l'altro secondo me in generale gli sviluppatori nordici hanno denotato penso soprattutto a Tarsier Studios ad esempio per individuare un team piccolino eccetera che sono quelli di The Nightmares cioè sono capaci secondo me di avere la sensibilità giusta per creare dei giochi che hanno un carattere loro che si distinguono sono d'accordo con te loro avevano fatto anche una piccola parentesi sulla realtà virtuale con Ghost Giant prima ancora avevano fatto Fe sempre con Electronic Arts quando ancora l'etichetta EA Original non c'è e tutti si distinguevano appunto per questa estetica un po' particolare fra l'altro appunto il nuovo team Moon Hood che avrà sete a Gothenburg quindi in Svezia ha pubblicato un'immagine in cui si vede in realtà una sorta di ambientazione che ha veramente i tratti molto molto simili proprio all'estetica proprio di Fe e Lost in Random quindi credo che vogliano non si allontane vado dal seminato non credo che vedremo il primo prodotto nel 2023 non dico l'uscita ma l'annuncio la presentazione però hanno confermato di aver già ricevuto i fondi da un grande publisher e quindi immagino che insomma probabilmente nel corso di questa generazione scopriremo un po' che cosa decideranno di fare resta forse da capire cosa succederà a questo punto a Zoink perché se magari si portano via parte del talento e dell'anima creativa potrebbe magari avere un impatto importante sul resto fermo restando che per esempio sempre per citare Tarsier Studios tra Little Animals 2 e il primo l'originale sono cambiati tantissimi del team eppure secondo me l'anima non si è persa quindi bisognerà vedere che cosa succederà in questo caso è vero lì però c'era anche proprio una continuità di prodotto nel senso stavi facendo un sequel mentre se ci pensi quelle di Zoink avevano fatto sempre nuove ip titoli nuovi quindi c'è da vedere che cosa succederà al nuovo prodotto non credo vogliano fare un Lost in Random 2 perché non mi è sembrato neppure quel titolo capace di smuovere così le acque in ambito indipendente quindi insomma staremo un po' a vedere scopriremo nei prossimi mesi che cosa succederà grazie mille per averci seguiti anche in questa seconda puntata di Gong del 2023 torniamo forse domani se il mercato ci darà notizie interessanti altrimenti quando ci sarà qualcosa di cui parlare grazie mille grazie a tutti